il sesso tocca la cosa e salta su e ferma perché è l'unico modo se no picchi e basta perché sei già qua tu? non c'è un passato poi perché lo fate in mezzo che è più difficile non lo capirò mai c'è lo spigolo che se lo fai già di qua appena lo fai poi ti porta a girare giù più comodo e non picchi ma che casotto si concentrano a fare la curvetta adesso facciamo anche quella io c'ho l'ultimo giro qua guarda se è il bassino ma forza guarda Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti